Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, oggi venerdì 27 gennaio, la Chiesa Cattolica Venera Sant'Angela. Apriamo il nostro appuntamento con la rassegna stampa e quindi la lettura con le prime pagine dei quotidiani regionali, dal quotidiano dell'Abruzzo il Centro, pagina dedicata a Pescara, in apertura la fotonotizia con tutte le vittime della tragedia di Rigopiano che titola Mai Più. Poi protezione civile, curcio a penne dai soccoritori una prova di eccellenza, funerali di Del Rosso a San Cetteo, domani l'addio al titolare dell'hotel. L'elicottero caduto, i testimoni, sparito nella nebbia, volava troppo basso, documenti, campo tosso se quella diga iniziasse a collassare. Nel taglio basso, lega antidroga in lutto, Pescara perde, Gianni Cordova aveva 71 anni, fondò la casa per i tossicodipendenti. E poi Sebastiani, la notizia sportiva, il Pescara è vivo e Oddo non si tocca. Edizione dedicata alla provincia di Chieti, stessa apertura, poi nel taglio basso vediamo a caso di scoperti i furbetti del cartellino, chiesto il rinvio a giudizio per medico e usciere dell'ospedale. Chieti ancora rettore di G in tribunale, oggi il doppio interrogatorio. Edizione dedicata alla provincia di Teramo, vediamo cambia solo il taglio basso, scuole, la riapertura è incerta, allarme, terremoto nel Terramano, dubbi e paure di presidi e sindaci in tutta la provincia. E poi il dramma, bimbo morì in campo a processo, il medico del 118. Edizione dedicata alla provincia di Pescara, vediamo nell'Aquila, scusate, vediamo nel taglio basso, è la città più sicura d'Italia, così barattelli dei costruttori, case riparate a prova di scossa. Nella Marsica invece emergenza e scontro tra Santilli e di Pangrazio. Ed ora il messaggero in apertura rigopiano le colpe e l'orrore, identificate le 29 vittime, le ultime schiacciate da pilastri e macerie o scagliate. Nel caminetto alcuni clienti stringevano i telefonini in mano, sul display i messaggi con disperate richieste di aiuto. La fotonotizia in centro pagina, il cimitero di ghiaccio, ritardi, scoppia la guerra nel Partito Democratico, il sequestro dopo le ultime ricerche. Ancora in spalla gli eroi, vigile del fuoco colpito da infarto dopo aver scavato per ore il malore in seguito alla scoperta di uno dei cadaveni nell'area del disastro. Elicottero caduto, l'Aquila sfila davanti a sei morti, si apre la camera ardente a San Bernardino, domani il funerale, forse ci sarà Mattarella. E pescare ancora addio a Cordova, fondò la LAD. Il quotidiano della provincia di Teramo, la città in apertura rigopiano, morti cinque teramani, Atri, Bisenti e Silvi si stringono alle famiglie delle vittime della slavina che ha travolto l'hotel. In centro pagina la fotonotizia sul maltempo, la nuova emergenza dopo la neve e sisma, strade cancellate da Frane e Slavine. In alto vediamo settima scuola inagibile, 1300 alunni senza sede a Teramo, il sindaco scrive al ministro per i MUSP e animali, per loro è ancora emergenza, stalle crollate e senza cibo. E poi la politica in spalla, Rudy Di Stefano cambia felino da Gattiano a Leoncino. Giulia Nova, scuole chiuse, tutti contro Mastro Mauro. Giornata della memoria, un albero in memoria di Adamoli, il podestà che salvò gli ebrei. Poi calcio mercato, doppio colpo per il diavolo, lo vedremo nella pagina sportiva. E adesso passiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali, vediamo in apertura il Corriere. Diamo un'occhiata quindi alle prime pagine dei quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, come detto, in apertura parla del terremoto, lite con l'Europa, Moscovoci fuori dal negoziato alle nuove spese, ma il governo non ci fermiamo. Orfini a Bruxelles, parole offensive, Padoan, la risposta sulle misure di aggiustamento arriverà in tempo. E poi in breve, vediamo, non riusciamo a visualizzare il Corriere, passiamo alla Repubblica, Europa, il piano B del governo, no alla manovra, se voto a giugno, vescovi all'attacco, la politica non fa il suo mestiere, sostituita dai giudici. E poi in centropagina, viaggio nella Turchia che cancella Shakespeare, in spalla, Dazzi e Muri, Trump è già ai ferri corti col Messico. Passiamo al messaggero, processi show, freno, IPM, la bacchettata del presidente della Cassazione, inchieste troppo lunghe, ora maggiori controlli, il procuratore generale stop alle fughe di notizie. L'ANM diserta, il governo ci ha mentito. E dopo la sentenza sull'italicum, soccata dei vescovi sul voto anticipato, Grasso serve intesa, ha detto, Grillo scrive al Colle. I zitalici, l'interventismo fuori stagione del Monsignore, così il titolo dell'editoriale di Aiello. E poi ancora ricette e complotti, il cortocircuito che incendia, toghe e politica. L'intervista, Raior Madrid vuole dalla UE più flessibilità. In centropagina la fotonotizia, l'intervista, ecco, resto a Roma, finché non vinco, il centravanti bosniaco, l'Italia mi ha migliorato. E poi Raggi sotto assedio, tratta con la procura sul patteggiamento, il sindaco pronto a chiedere il rito speciale per lo scontro di pena, il leader del Movimento 5 Stelle è Serena. Accusi a Berlusconi, olgettine pagate fino a due mesi fa. Nel taglio basso, infine, fra Stato e Regioni, vaccini obbligatori per scuole e nidi, accordo sulla legge. Il giornale, documento segreto in apertura dossier shock dell'alta finanza, uscire dall'euro è un affare per Mediobanca. L'Italia ci farebbe guadagnare 8 miliardi. Europa cinica, il terremoto lo pagate voi. E poi la Raggi, terrorizzata dalle manette, ora pensa di autosospendersi. In spalla, dopo cent'anni, Trump chiude l'impero americano. Idem, anti-Renzi da Berlusconi per fermare la corsa alle urne, per quanto riguarda i retroscena. E poi, prima, simulazioni, paese ingovernabile. Nel taglio basso, se il sosia colpevole salva l'innocente, questa la storia. E poi ancora la Shoah spiegata in 50 pagine da un non ebreo. La stampa in apertura Raggi, mi imposero le nomine nelle carte, lo sfogo contro Grillo. La sindaca di Roma tratta per il pateggiamento consulta. Renzi accelera sul voto e blinda le liste. Niente barricate. Da Gentiloni, Ivescovi, la politica faccia il suo mestiere. Grasso, i partiti tuonino l'accordo, l'Unione Europea sui conti, necessarie risposte precise, no all'instabilità e le interviste. Ora ci serve un ricambio, a dirlo e cuperlo. Il PD deve ritrovare i suoi elettori. Nessuna intesa con Alfano e Compani, Salvini, la Lega pronta a stare all'opposizione. Il giorno della memoria, nel taglio alto l'odio per Israele, antisemitismo dei nostri tempi. Così il titolo. E poi in centropagina vediamo la fotonotizia da Snowbraver sotto la neve. A Rigopiano recuperati gli ultimi corpi delle 29 vittime. Ecco le loro storie. Intesa San Paolo sfida i banchieri francesi. Cresceremo ancora il gruppo Alternative a Generali. Festa del decennale polemica con Unicredit. E poi ancora il bilancio. Ci ha da record l'utile netto a 1,8 miliardi. Il fatto quotidiano. Nel taglio alto vediamo la strage di Viareggio. Colpa pure di Moretti. Il verbale, la testimonianza del tecnico della sicurezza. E poi Raggi. Subito giudizio patteggia. Tutto falso. Balle spaziali. La stampa garantisca. Sindaca già colpevole. In centropagina il Porcelli. Tre deputati su quattro nominati dai capi e non eletti. Dopo la consulta. Quindi i disastri delle due leggi elettorali spolpate dalla Corte. I premi Oscar per l'horror della legge elettorale. Ancora tra i titoli. La rivincita dei vecchi signori delle preferenze. Vediamo il calciomercato. Juve Agnelli faceva entrare allo stadio Ultras. E petardi i capi d'accusa della FIGC. Note spese. L'UGL. Il conto alla sexy boutique della Polverini. E poi terremoto. Protezione civile. Stop. Di Renzi. Al decreto Gentiloni. Ignorato. Giustizia. La priorità di ministro. E CSM. Attaccare i PM. Davigo della protesta. Effetto Cirinna. Nel taglio basso. Vediamo. Titola Unioni civili per una morte civile. L'83 negri anni di Torino. E il primo vedovo gay. L'ombra degli 007. Nel taglio basso. Vediamo. Titola Regeni. I silenzi di Cambridge. Sull'inchiesta. E poi ancora Gerardo Marotta. Il Don Quixote napoletano che amava i libri. Ed ora il mattino. Canzio. Più controlli sui PM. Indagini troppo lunghe e senza riservo stop ai processi mediatici. Anno giudiziario. Il presidente della Cassazione invita il Parlamento a fare una legge sulle adozioni gay. L'inchiesta di Roma. Raggi tratta con la procura il patteggiamento per il falso. Il commento che titola la sola soluzione è cancellare l'azione penale obbligatoria. In spalla vediamola. C'è l'affondo dei vescovi sulla legge elettorale. Troppe norme dettate dai giudici. Intesa lontana. Il Colle preoccupato. L'analisi. Se la consulta può ridare vita ai partiti. E ancora, a seconda analisi, la predica dal pulpito sbagliato. Il lutto. La fotonotizia a Napoli. La cultura orfani di Marotta. La difficile eredità. Tra fondi che mancano e necessità di cambiare. Tra le interviste del mattino. Io ho denunciato perché tengo Pompei aperta. E poi ancora il pensiero. Il filosofo della civiltà. Le idee. La sua utopia. Forse irripetibile. Si parla di Marotta. Il colloquio con il Premier Radio Italia e Spagna. Soci più flessibilità nella UE. E poi nel taglio basso. Metà dei napoletani ha paura di denunciare il rapporto con i crimini di Camorra. Vediamo avvenire in apertura il fatto. Altri muri di Trump. Tasse e liste. Nero elenco settimanale dei reati di stranieri in USA. E poi la fotonotizia. Formazione bonus fiscali. Dieci azioni per il lavoro. Ancora giustizia. No. E inchieste mediatiche. I giudici si processano. Grasso stringe. Si può fare in fretta. E poi la priorità alle famiglie. E la politica decida. Vediamo il manifesto. Via i voucher. Nuovi diritti. La CGL lancia la campagna per il referendum. L'anno del giudizio. In centropagina. La fotonotizia. Inchieste troppo lunghe. Troppi processi mediatici. La dura requisitoria del presidente della Cassazione Canzio. Apre l'anno giudiziario. Chiesta l'abolizione del reato di clandestinità. È una legge per le stepchild. Le adozioni appunto. La diserta e attacca. Il governo minaccia la nostra autonomia. Grasso e galantino. In linea con Mattarella. No al voto subito. Passiamo al secolo XIX. In apertura. Raggi. Nomine imposte. Così il titolo. Le carte. La sindaca di Roma segnalò le pressioni di Grillo per gli assessori. I vescovi. La CEI e l'Italicum. Bocciato. La politica non ha fatto il suo mestiere. Renzi spinge per il voto con liste blindate. L'Unione Europea. L'Italia. Risposte precise. Sui conti. I personaggi. Eppia. Io mai. In un listone. Unico accanto al nome di Alfano. Ha detto. Toti. Invece. Centrodestra. Si presenti unito. E supererà il 40%. In centropagina. Battere i lupi. Per legge. La Liguria. Dice. Sì. Così. La fotonotizia. Gli animalisti. insorgono contro il piano di governo e regioni. E poi in breve vediamo i titoli le amministrative. Movimento 5 Stelle. Strappo a Genova. Il capogruppo Putti va via con due consiglieri. Risico della finanza. Intesa. San Paolo scopre le carte su generali e sfida i banchieri francesi. L'intervista ancora a Signorini. A Genova concessioni dei terminal al primo comitato. Il caso. Poi ancora in spalla. Le toghe sfidano. Il governo. Ma si dividono sulla casa. Sulla casta interna. La tragedia nell'hotel. Recuperati 29 sepolti nel ghiaccio. A Rigopiano. E ancora spedizione di Genova. Errore di un documento. Si uccide. A 28 anni. Temeva di perdere il posto. Il gazzettino. Vediamo in centropagina giustizia. Basta processi spettacolo. Il procuratore striglia i PM. Troppe fughe di notizie e inchieste mediatiche. L'associazione magistrati diserta in alto. Invece Padova. Nuova bufera. Lascia il commissario. Paga per l'ospedale. Venezia. I giornali inglesi. Il migrante lasciato affogare in Canal Grande. E poi ancora la 90 di Piave. Il giovane voleva derubare l'amante segregata in casa. Vediamo nel taglio basso. Brioche e tiramisù. Per quanto riguarda l'intervista. La dolce sfida di Alessandro Benetton. Passiamo all'unità. Pd. Grandi manovre per il voto a giugno. Partito più forte. Liste aperte Renzi. Si prepara per affrontare la montagna a 40% alle urne. Corte italicum vescovi all'attacco. Politica debole sostituita dalla magistratura. La fotonotizia. Bamboccioni per forza non è un paese per giovani. E poi ancora vediamo le interviste. Visco più investimenti meno bonus. Ferrara torna alla democrazia dei partiti. Scontro nella magistratura. Strappo e governo. Berlusconi è di nuovo accusato di corruzione. Nel taglio basso Grilli difenderà oggi. Ma la sindaca rischia la sospensione con la condanna. Anche in primo grado per abuso d'ufficio scatta la Severino. Un grosso guaio per i 5 Stelle. Vediamo la verità in apertura. Tutti i paradisi fiscali dei Renziani indagano due procure. Gli attentati contro Andrea Bacci portano gli inquirenti ad accendere i riflettori sull'amico dell'ex premier in trecci societari con molti altri imprenditori vicini al Giglio Magico. Hanno una caratteristica in comune. Basi in Lussemburgo, Cipro e Panama. E poi la fotonotizia che titola Quegli ipocriti che vogliono salvare Melania da Trump. Vediamo in spalla l'editoriale che titola Turiamoci il naso e teniamoci. Gentiloni no al voto subito. Cassazione a gamba tesa, sì alle eduzioni gay. Il presidente Canzio chiede al Parlamento di approvare la norma stralciata. Riparte la battaglia nel taglio basso. Il documentario che fa lo spot alla rivoluzione globale della gender, pensiero unico in tv. E poi la giornata della memoria, l'islamismo e il nuovo nazismo vietato rifare gli stessi errori. Così il titolo. Ed ora ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Luca Mennella di InMeteo.net. Tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani regionali dal centro. Abbiamo visto la prima pagina. Entriamo all'interno in primo piano. Rigopiano tra le macerie. Mai più lutti per ritardi e mancata prevenzione sul luogo del disastro. quel che resta del resort da sogno. Vediamo nel sommario dove è caduta la valanga tra i soccoritori che smobilitano. È una montagna di detriti, rocce e tronchi di alberi tirati fuori dall'albergo, raso al suolo. Ma la montagna fa ancora paura. Sul posto rimarranno una ventina di uomini del soccorso alpino a tutela dei vigili del fuoco impegnati a ripulire la zona. Nella pagina. Il punto sui soccorsi. Curcio, ricerche concluse. Ma il lavoro continua ancora. Il capo della protezione civile nel centro operativo di Penne. Ci sono stati ritardi? C'è chi sta approfondendo, ha detto. Si è svolta ieri la conferenza stampa alla presenza di Fabrizio Curcio, il capo della protezione civile. Vediamo il contributo video. Qui sulla tragedia di Rigopiano c'è la comunità scientifica che fa il monitoraggio della possibile ulteriore valanga a supporto degli operatori tecnici che hanno lavorato praticamente dal 18-19. Questo è il punto. Ovviamente qui abbiamo messo in piedi un sistema con più di mille operatori, ovviamente gestiti da un direttore tecnico dei soccorsi che ha messo insieme tutte le professionalità per operare in questa situazione che tecnicamente è veramente molto complessa. Io vorrei ancora una volta sottolineare la capacità, l'abnegazione, la professionalità di chi spinge la propria azione anche ben oltre quello che è dovuto, cioè veramente in condizioni complesse, molto complesse. Basti pensare ai primi giorni alle condizioni meteo, ai soccorsi fatti durante questi giorni e anche passando per la tragedia che ha colpito il velivolo del 118 che seppur a margine di questa situazione fa comunque parte di un sistema complesso. Le operazioni di soccorso si sono concluse nella nottata, nella primissima mattinata e credo sia doveroso fare un punto e questa per noi è anche l'occasione per ringraziare tutti voi operatori della stampa, della comunicazione che avete seguito le attività delle strutture, delle squadre di soccorso sin dal primo momento. In questo momento serve anche a definire, ad esprimere, a dare a ciascuno di voi gli elementi che eventualmente doveste ritenere utili per valutare più complessivamente, conoscere più complessivamente tutto quello che è stato fatto. Nel taglio basso Enel dovrà spiegare cos'è successo, Chiavaroli critica con l'organizzazione della protezione civile il sottosegretario alla giustizia e poi l'associazione il Kodakons vuole chiedere i danni. Andiamo ancora avanti, Rigopiano, le vittime, la speranza è finita, ora resta solo il dolore, all'oretto camera ardente per Di Pietro, pescara dall'addio a Del Rosso, vasto in lutto per Jessica, a Bisenti. Amici e familiari piangono per Luana. Sara e Claudio, una vita piena di progetti, l'estetista di Atri è morta insieme al marito Claudio, titolare della ditta di pubblicità Spot Vision. E poi ancora vediamo Silvana e Luciano, i parrucchieri tanto amati, la vacanza dei coniugi di Castelfrentano era prevista a novembre, era stata rinviata per il terremoto. La tragedia del 118 è sparito nella nebbia, volava troppo basso, gli investigatori ascoltano i testimoni, la procura disastro avviatorio colposo, domani all'Aquila i funerali, gara di solidarietà per i familiari delle vittime. E vediamo anche su questo articolo il contributo video dalla redazione di L'Aquila. Dovrebbe essere effettuata in giornata, dopo il conferimento dell'incarico all'anatomo patologo da parte della procura dell'Aquila, l'autopsia su Gianmarco Zavoli di Rimini, il pilota dell'elicottero del 118 precipitato martedì scorso su un costone di Monte Cefalone a Lucoli, poco dopo il valico della Crocetta in provincia dell'Aquila. L'esame autoptico è stato disposto anche sul verricellista Mario Matrella, 42 anni, pugliese, di Putignano. Per le altre quattro persone, compreso il ferito che si trovavano a bordo del mezzo, dovrebbe esserci solo una ricognizione delle salme. Ieri intanto era stata recuperata la scatola arancione, che contiene tutte le informazioni, comprese le comunicazioni via radio, l'ipotesi che si fa strada nelle indagini coordinate dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli e quella dell'errore umano. Sul luogo della tragedia c'era una fitta nebbia e un vento che soffiava a 40 km orari. Il reato ipotizzato dal pubblico ministero è disastro, aviatorio e delitto colposo. L'inchiesta non ha indagati e probabilmente non ce ne saranno, proprio perché l'ipotesi più accreditata è l'errore umano. Su disposizione del magistrato sono state già acquisite le telefonate arrivate e partite dal 118 dei medici che hanno gestito l'emergenza sanitaria. Sequestrati anche i registri di volo dell'elicottero, ma anche il materiale relativo alle revisioni, anche presso l'azienda milanese Inaer Aviation Italia, che ha vinto l'appalto per il servizio di elisoccorso. I funerali delle vittime, in particolare gli aquilani Walter Bucci, medico del 118, e l'infermiere Giuseppe Serpetti dovrebbero tenersi sabato nella Basilica di San Bernardino, dove già domani potrebbe essere allestita la Camera Ardente. Nella giornata dell'esequio, come già annunciato dal sindaco Massimo Cialente, all'Aquila sarà osservato il lutto cittadino. Nel taglio basso vediamo che già in servizio l'elicottero sostitutivo, si tratta di un velivolo provvisorio che è stato utilizzato per soccorsi durante l'emergenza neve. Ed ancora in primo piano, Angelo Sante, aiutateci facendo i turisti. Da noi, ovindoli appello del sindaco, la nostra regione è bella da visitare durante tutti i periodi dell'anno. E dopo le polemiche in tv, Don Bruno, chiedo scusa a tutti, voglio venire a sciare in Abruzzo. Impianti sciistici a pieno regime con il ritorno del sole, riportate dal centro, le webcam di ieri sui campi da scia, ovindoli a Roccaraso e a Campo Felice. L'allarme diga a Campo Tosto se l'opera inizia a collassare. Ecco quando scatta l'evacuazione. Il centro pubblica il documento di protezione civile della struttura di Rio. D'Alfonso, vecchio di 17 anni, ha detto senza aggiornamento inutile il piano d'emergenza. L'affondo del presidente d'Alfonso, se le informazioni contenute sono superate, è impossibile approntare l'atto di competenza della regione, ha detto. Il 18 gennaio, tecnici dell'Enel hanno eseguito un sopralluogo sulla struttura, calandosi con il verricello da un elicottero. Il gestore continua nel graduale abbassamento del lago. Retroscena, grandi rischi, vado in procura, l'ira del governatore al ministero e le richieste di verifica. Ancora andiamo avanti i scenari politici, legge elettorale, voto, ora è caccia all'intesa. Abbiamo visto, dopo la sentenza di tali come alla Camera, il dibattito resta ancora in alto mare. Il pressing dei 5 stelle su Mattarella e andiamo direttamente alla pagina dedicata a Pescara. Vediamo in apertura lega antidroga in lutto. Addio Gianni Cordova, grazie da 400 ragazzi. Aveva 71 anni, nel 90 fondò la casa per il recupero di tossicodipendenti. I funerali, oggi alle 15.30 nella chiesa del Santissimo Rosario di Via Cavour. L'inizio dell'avventura, una sfida cominciata sognando una scala. Nel taglio basso, addio a Fulvio, bagnino storico della croce. Il 56enne è stato stroncato da un arresto cardiaco. Terra era la mascotte dello stabilimento. Ed ancora le reazioni per la scomparsa, vediamo, di Cordova. Chi ha fatto amare la vita, ci ha fatto amare la vita, non lo dimenticheremo. I suoi stretti collaboratori ricordano gli insegnamenti del fondatore della LAD, il comune con il gonfalone per l'ultimo saluto, cordoglio di tutto il mondo politico. Nel taglio alto, Alessandrini, voce autorevole nel mondo del sociale, ed Alfonso invece è stato una personalità luminosa nella notta alla schiavitù della droga. Scontro sui conti del comune a Pescara, bilancio e piano delle opere bloccati da 1.800 modifiche. Parte l'esame in consiglio, l'Issa Teodoro e centrodestra dettano le condizioni, ma la delibera va approvata entro il 31, altrimenti si perdono 5 milioni di euro. Commissione, primo via libera alla sanatoria per le vecchie tasse. Sopralluogo nel reparto, la geriatria scoppia con 20 malati in più. Passiamo avanti, Jennifer, concerto in piazza Salotto per il compleanno. Il 5 febbraio la musica di Michael Jackson e lo show sui pattini, il fratello della giovane uccisa dal fidanzato, venite in tanti. In breve vediamo la presentazione, il dibattito, il libro di Bonanni, oggi all'Aurum. E ancora la movida di oggi, festa black a Nettuno, pazza idea al giambo. Calunniò i carabinieri, 4 anni e mezzo, condannato il giovane che accusò i militari di averlo pestato dopo un arresto e pubblicò 137 video sul falso massacro sulla nazionale. Rubano uno zaino, due giovani inseguiti e acciuffati. E ancora la morte del bimbo era evitabile. Le motivazioni della condanna dei genitori e del nonno, i giudici travolto dal treno per una clamorosa mancanza d'attenzione. Montesilvano, in apertura, minacce e violenza sessuale in ufficio, non passa il ricorso, l'ingegner di Donato non può essere reintegrato. Al suo posto il sindaco lo sorprese a palpeggiare una donna, confermato il licenziamento del dirigente. La polemica, Orsini accusa di ignazio sciacallaggio politico. Ed ancora a Montesilvano, il gala della solidarietà in memoria di Gianni Cordova. Domenica la quindicesima rassegna. Sempre a Montesilvano, musica, maschere e burattini. Un mese di appuntamenti a febbraio per il carnevale di Porto Allegro. E ancora vediamo un parco con i giochi per bimbi disabili. Asilo Nido via Chiarini, disponibili altri 22 posti. Le famiglie potranno presentare le domande di iscrizione entro il 31 gennaio. L'azienda speciale preparerà la graduatoria a febbraio. Bandiere Verdi, i pediatri italiani a Montesilvano, in città alla cerimonia nazionale. E addio al balneatore D'Agostino, è morto lo storico titolare dell'Ido Il Veliero, la categoria in lutto. Vediamo ancora nel taglio basso, spoltore, la denuncia di Forza Italia, Via Prati e di nuovo una groviera. Scuola nel cantiere, si allungano i lavori a Francavilla. La riqualificazione doveva essere ultimata in 180 giorni. I genitori non si può fare lezione con i rumori. Luciani, il sindaco, opera nel porticciolo tra pochi giorni. E poi ancora, botti e petardi, regolamento in consiglio. Escluso dai piani industriali, Toto ricorre al Tar Lazio, Bussi contestato. Il governo, per non aver visionato e accolto un progetto presentato dalla società abruzzese, il comune si costituisce in giudizio. Manoppello, domani giornata della memoria nella sala polivalente. L'area vestina è ancora allarme per frane, strade, energia e bestiame. Appenne, scuole e sfollati, un'emergenza dopo l'altra. Previsto il ritorno in classe per lunedì, ma l'Istituto Marconi si studia l'ipotesi dei turni. Caramanico Terme, Santa Maria Maggiore, si temono nuovi crolli. Grande preoccupazione per la chiesa madre, il sindaco. Faremo di tutto per salvarla. Chieti, anno accademico. L'inaugurazione, Ateneo, resta vuota alla poltrona del generale. Toschia, stente, il rettore parla nel giorno della bufera. Giudiziaria, ed ecco tutte le carte in mano al PM, l'inchiesta oggi dal GIP. Il medico e l'usciere, furbetti del cartellino, scoperti a Casoli. Teramo, emergenza maltempo, in apertura allevamenti, morti, migliaia di animali, centinaia di interventi nelle strade crollate per scosse e accumuli di neve. Il prefetto, la fase critica è finita, i ritardi li hanno causati, i blackout. Vediamo le foto, le immagini delle due stalle in una azienda distrutte dalla neve. E da Campria, quartiere Cona, nuove accuse contro Enel. Subito i ristori. Nel taglio basso, Calabretta, processo il medico del 118, bimbo di Pineto morto sul campo di calcio. Il GIP non archivia, si doveva usare. Il defibrillatore, ha detto, e lo vediamo nella foto, il piccolo Marco. Andiamo avanti, vediamo nella pagina successiva, la pagina dedicata all'Aquila, sicurezza e case, Barattelli, l'Aquila e la città meno pericolosa d'Italia. Il presidente dei costruttori, la maggior parte delle abitazioni riparate, ha un indice di sicurezza dell'80%, mentre tocca il 100% per chi abita nel progetto case e nei map post terremoto. La vulnerabilità a edifici privati, dopo il sisma del 2009, vediamo il grafico. E poi nel taglio basso, invece, l'ingip prevedibile scossa di magnitudo massima 5.5, parla Valenzise, che smentisce la commissione grandi rischi. Dopo il sisma del 2009, le faglie hanno scaricato energia. Il geologo Moretti, se si muoverà qualche segmento di faglia, dando scosse anche di discreta energia, tale fenomeno può essere inquadrato nel contesto del normale assestamento sismico. Vediamo adesso, torniamo, scusate, alla città. Abbiamo visto la prima pagina, vediamo qualche notizia all'interno. Il Quotidiano riporta la tragedia di Rigopiano. In primo piano, Atri, Silvi e Bisenti piangono i loro morti. Cinque dei sette terramani coinvolti nella slavina dell'hotel Rigopiano. Non ce l'hanno fatta, erano tutti nel bar o nella hall. Vediamo le vittime nella foto. Tra di loro anche la coppia di Giulianova, Giorgia Galassi e Vincenzo Forti. E' strata tra venerdì e sabato scorso dopo di loro. Nessun sopravvissuto. E anche qui mi fermerei per vedere le parole dette dai due giovani fidanzati giuliesi in conferenza stampa. E' cominciato tutto, diciamo, con un boato. E poi è crollato tutto. Un boato. Quello che le posso dire, un boato. Le parole di Vincenzo Forti e Giorgia Galassi riescono solo in parte a restituire la drammaticità delle 58 ore vissute sotto le macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola. Loro sono stati estratti vivi assieme a Francesca Bronzi, fidanzata di Stefano Feniello. Il ragazzo di Valva, in provincia di Salerno, ma residente a Silvi, che purtroppo non ce l'ha fatta. Ed è proprio a Francesca che corre il pensiero di Giorgia. Le due ragazze presto si incontreranno di nuovo, per un abbraccio ed una parola di conforto. Per lui, ma soprattutto per Francesca, che io l'ho vissuta a pieno tutte quelle ore, io mi sento morire per lei, perché poteva succedere anche a me. I due fidanzati giuliesi, arrivati solo poche ore prima a Rigopiano, hanno raccontato di non essersi accorti della valanga, ma di aver pensato ad un nuovo terremoto che avesse fatto crollare l'albergo. In quei minuti interminabili, sotto le macerie e la neve, sono stati guidati solo dalle proprie voci e sono sopravvissuti bevendo il ghiaccio che li circondava. In quella nicchia creatasi vicino al caminetto della sala da tè, nessuno poteva sentirli e loro non potevano sentire nessuno. Fatta eccezione per la moglie di Giampiero Parete, Adriana Branceanu, che era poco più avanti con il figlio Gianfilippo. Noi sentivamo dei passi, poi ho sentito la signora molto più avanti a noi che parlava, comunicava con qualcuno. E io gli ho chiesto con chi parlava e lei mi ha detto che sto parlando con il primo soccorritore, che era Mauro, mi ricordo. E lì abbiamo iniziato a urlare, io e Francesca tantissimo, abbiamo iniziato a bussare. Lui dopo un po' loro sono venuti da noi e ci hanno iniziato a parlare. State tranquilli che vi tremo pure pure a voi. Ancora sotto shock, Giorgio e Vincenzo raccontano quell'inferno di ghiaccio con gli occhi pieni di lacrime e la mente vola verso tutti coloro che avevano conosciuto all'oterrico piano e con i quali avevano condiviso l'ansia e la paura delle scosse di terremoto e che, purtroppo, non sono stati altrettanto fortunati. Io ho pensato che sono salva grazie a Dio, però sono molto dispiaciuta, ma veramente profondamente dispiaciuta poiché io quelle persone le ho conosciute, io ho visto il terrore dei loro occhi, sapevo che queste persone avevano dei figli. Nel taglio basso vediamo la nuova sala delle emergenze. Nascerà alla caserma dei pompieri l'annuncio del prefetto dopo l'evacuazione di parte della prefettura e il trasferimento forzato al Parco della Scienza. Ed ancora vediamo domani l'omaggio a Davide De Carolis. Dopo i funerali solenni all'Aquila, la salma tornerà a San Bartolomeo. Passiamo avanti. Scuole sicure, dichiarata inagibile anche la De Jacobis. Dal 24 agosto sono sei le scuole comunali danneggiate dal terremoto. 1.300 studenti hanno perso la sede. Il sindaco Brucchi sempre più orientato verso i moduli scolastici provvisori che invece non convincono affatto il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino. Viabilità, strade cancellate da Frane e Slavine sopra luoghi in elicottero tra Atri e Cellino e a Valle Castellana. Ed ancora luce, telefoni e strade. Confindustria chiede un intervento urgente. Le verifiche, ancora, D'Alfonso chiede verifiche immediate della vulnerabilità, ma i sindaci avrebbero dovuto eseguirle per legge entro il 2013 mai fatte perché considerate troppo costose. Blackout, giorno e notte lavoro per ricollegare Civitella. Comune, Regione ed Enel hanno dato vita ad una task force. Emergenza animali. L'emergenza prosegue per salvare gli animali. I vigili del fuoco lottano per liberare gli allevamenti. Gli elicotteri creano un ponte aereo per rifornire le stalle. Difficile smaltire le carcasse degli animali morti nel crollo delle stalle. Molte sono ancora prigioniere sotto le strutture sfondate dal peso della neve. E vediamo anche su questo articolo perché dal piazzale della Villeroi a Teramo gli elicotteri della forestale e dei carabinieri continuano a volare senza sosta per raggiungere gli animali affamati della montagna e portare loro del cibo. Il contributo video di Tania Bonici Castelli. Storie di distruzione nel Teramano che si intrecciano con la solidarietà dell'Italia intera a favore di questa provincia martoriata. Nel piazzale dell'ex Villeroi a Teramo si stoccano quintali e quintali di fieno, avena, orzo, farina di mais che arrivano da ogni regione italiana per poter sfamare gli animali rimasti senza cibo in montagna. Colonnello, grande solidarietà dal mondo agricolo per gli animali che stanno morendo di fame. Voi come forestale state portando questo mangiare a loro? Ci stiamo impegnando in questo arduo compito perché con quello che è successo ovviamente non è facile organizzarsi. Gli aiuti avvengono via aerea, via terrestre e anche direttamente. La cosa bella del mondo agricolo, di un mondo di cui si parla sempre poco, di cui non si conoscono molti aspetti, è la solidarietà che c'è. È una solidarietà non solo terramana, non solo abruzzese, ma è una solidarietà che viene anche da fuori. Viene dalle Marche, viene dal Veneto, viene dalla Lombardia. In questi ultimi due giorni quale zona avete raggiunto? Noi abbiamo raggiunto, ora siamo partiti soprattutto con i mezzi aerei, abbiamo servito Valle Castellana, Rocca Santa Maria e quindi oggi proseguono sempre in quella direttrice. Immagini che solo ieri noi abbiamo servito 27 aziende, 27. abbiamo consegnato 83 quintali di granaglie e abbiamo consegnato 800 quintali di fieno, che sono una quantità importante. E poi c'è la storia di una famosa azienda di salumieri di Castelcastagna, che da quasi mezzo secolo produce alimenti nostrani di incredibile qualità. 11 stalle crollate, centinaia di suini sotto 3 metri di neve, dopo una settimana dalla grande nevicata aggravata dall'ultimo sisma. Una tragedia economica ma anche sociale, dalla quale sarà difficile riprendersi per le comunità montane. È una situazione francamente mai ricordata, una botta alla zootecnia che forse metterà in ginocchio l'Abruzzo. Spero che questo faccia rendere conto le autorità che necessita un intervento non da poco. Quanti animali le sono morti? Attualmente non sappiamo. Io ho diverse stalle, quindi stiamo cercando anche tramite i vigili del fuoco a tirare fuori gli animali ancora vivi. Ma perché sono sotto la neve ancora? Sono sotto la neve. Parliamo di 3 metri di neve, non parliamo di centimetri. E consideriamo poi che una neve è così pesante mai ricordata e quindi la situazione è stata veramente tragica. Cosa chiedete agli amministratori? Poco a burocrazia e tanto immediato supporto alle aziende zootecniche. Ed ancora dal quotidiano della provincia di Teramo, area di separazione tra Di Stefano e Gatti. Sabato il primo passaggio, nuove energie, aderirà ai conservatori e riformisti di Raffaele Fitto. Cambia il felino di riferimento politico dai gattiani di Futuro In ai leoncini di Raffaele Fitto. L'emergenza, confartigianato, invoca la sospensione dei pagamenti. Gli artigiani chiedono uno stop dei versamenti a Banche, Erario, Equitalia, IMS e Inail. Ed ora ancora a Sant'Egidio, tagliato il nastro nelle nuove scuole medie. Terminati i lavori alla Centro Fiera dopo i problemi causati dal terremoto. Niente più lezioni pomeridiane. Neve e terremoto fanno saltare anche la sfilata del Carnevale. Poi ancora Alba Adriatica. I soldi per la ciclabile rischiano di finire dentro al fiume. Le associazioni ambientaliste chiedono la messa in sicurezza degli argini del Vibrata. Martinsicuro, maxi centro per la riabilitazione a Villa Rosa. La Santo Stefano SRL presenta il progetto. L'amministrazione sonda il terreno con la Regione. Trovato in possesso di Tretti di Coca, albanese 35enne, finisce in carcere ad Alba Adriatica. Ancarano invece viabilità. Le strade della Val Vibrata si trasformano in una pista di pattinaggio. Il ghiaccio manda in tit la circolazione lungo le provinciali nei territori di Ancarano e di Sant'Egidio, al Vibrata. Ed ancora scuole chiuse tutti contro Mastro Mauro. Come è possibile chiedere nuovi sopralluoghi dopo tre giorni di lezione? L'ordinanza è messa in serata. Non ha raggiunto tutti e qualcuno si è recato lo stesso a scuola. Il Baltic giudicato il miglior hotel per le vacanze al mare in famiglia. Ancora il caso cartella e rottamazione bocciata per questioni tecniche. Federica Vasanella chiarisce la scelta. Nessuna sfiducia verso il sindaco. Spiaggiato. I balneatori criticano. I cittadini raccolgono. Il comune consente ai residenti di recuperare la legna lasciata dalle mareggiate. Silvi, il sindaco costretto a lasciare fuori il PRG in Consiglio Comunale. Si discuterà solo di bilancio. Prosegue l'impasse sul caso politico. Silvarolo. È raro che i comuni decidano di presentare il bilancio preventivo così con così largo anticipo. L'iniziativa Sport per la vita rinviato in segno di solidarietà dopo il maltempo. A Roseto praticare attività sportiva è un diritto dei disabili. Sandro Teodoro tiene corsi da due anni nella palestra della Casa Rosa. Vediamo ancora l'incontro con Tua. Il sindaco chiede più collegamenti con le frazioni di Roseto. Nagsnes e Marcone conosciamo le regole che disciplinano il masterplan. Nuovo attacco del PD sulla proposta della funivia già bocciata in Consiglio. E ancora Silvi, Franco Costantini premiato a Nuoro con il titolo di padre del folklore. A Roseto barriere architettoniche la stazione non è a norma. Situazione inaccettabile per il sindaco di Girolamo che scrive una lettera a RFI. E vediamo adesso il messaggero. Abbiamo visto la prima pagina dedicata alle notizie nazionali e quindi anche la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Entriamo all'interno magari per vedere le prime pagine dedicate alle quattro province. Iniziamo dalla provincia di Pescara. Vediamo come apre. Se riusciamo ad avere l'anteprima. Eccoci in apertura. Quindi si parla del bimbo lasciato libero di andare incontro alla morte. La sentenza per i giudici. La mamma di Francesco Spinelli conosceva il varco che dal giardino porta ai binari della ferrovia. Negligenza fatale ma l'imputazione di abbandono di minore è stata derubricata dalla corte di Assise in omicidio colposo. Il processo Rubi Quattro, tornano a Milano gli atti sulla meteorina pescarese e poi la bomba ecologica, le difese interrate, rifiuti a bussi era normale. Addio al campione della solidarietà è morto Gianni Cordova, l'abbiamo visto, l'ex bancario che inventò la comunità di recupero per tossicodipendenti. Lo scontro, cartelle da rottamare, bilancio in aula con un occhio al tar su Pescara Porto ed ancora vediamo pagina dedicata all'Aquila. Classico, la linea non cambia, niente doppi turni né MUSP. Summit in regione con i sindaci, le scuole restano aperte, nuovo giro di controlli sui edifici di fida della preside del Cotugno. Forza Italia tenta la carta Bertolaso, l'Aquila verso le elezioni e poi la paura, il geologo Moretti scosse possibili ma in città niente panico. E poi il caso, due imprenditori di San Marino denunciano in tv, non ci hanno consentito di spalare la neve con i Bobcat. Nel taglio basso vediamo la battaglia Tempio-Crematorio, ricorso al Tribunale amministrativo, la 2 Verdacqua, il Tar Boccia, il Comune. Venite a sciare a Ovindoli, qui tutto ok. Accurato appello del sindaco Simone Angelo Sante, preoccupato dalla pioggia di disdette, non abbiate paura dei nostri monti. Il primo cittadino loda la capacità di riaprire di tutte le stazioni del turismo abruzzese e sostiene che l'emergenza è passata. Ad Avezzano recintata la vecchia ferrovia del nucleo industriale Pescassero, lì si blocca la seggiovia Coste delle Vitelle. Sul Monaco, senza rinnovo, svuotato l'ufficio Sisma. Tir, carico di carote, finisce nel canale, vediamo la fotonotizia. Poi Avezzano, rubano rame ma vengono assolti. Ad Avezzano ancora l'Udc nazionale fa tappa nella città. Chieti, Ateneo, ultima festa di Ilio tra veleni e defezioni eccellenti. Il generale Toschinon ritira la Minerva, l'associazione 360 gradi ha disertato, ma le immatricolazioni sono in crescita. Lezione di Mastro Pasqua sulla robotica. L'evento, giornata della memoria, tutti gli appuntamenti riportati dal messaggero in centro pagina. E poi la sentenza, calunio ai carabinieri, quattro anni e mezzo a Liani. Assenteismo all'ASL verso il processo, a caso richiesto di invio a giudizio per due furbetti del cartellino. Il centralinista timbrava al posto di un medico radiologo. L'inchiesta dei carabinieri è partita dopo le insistenti proteste degli utenti su ritardi nel servizio da parte della dottoressa. San Salvo, amministrative, si affilano le armi, Movimento 5 Stelle assente. Ortona, Ceri, la giunta faccia chiarezza sul PRG. È ancora vasto, basta monopolizzare gli eventi al Rossetti. Andiamo avanti Teramo, protezione civile indebolita alla base del flop soccorsi. Sarà dichiarato lo stato di emergenza dopo i 20 milioni di tonnellate di neve caduta. Tutte le carcasse degli animali deceduti saranno trasferite all'inceneritore. E ancora la polemica, l'Enel, tutti contro di noi, facile capo, capro, espriatorio, politica, nuove energie, confitto, c'è la mano di Di Stefano. Squadra mobile, nascondeva la cocaina in casa, arrestato le ordinanze nel taglio basso, scuole inagibili, risorgimento e De Jacobis. Si denuda davanti a una ragazzina, Giulianova, lo sconosciuto aveva cominciato anche a molestarla. Lei fugge da un conoscente, poi tornata a casa, racconta tutto alla madre. Si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni che l'ha invitata a salire a bordo di un'autovettura di colore beige per poi scappare. Giulianova ancora a Noro Tamazione, il sindaco autogol del PD. Documento sull'ospedale, 5 Stelle si dissociano. Ancora notaresco, scrivo a Papa Francesco se saremo dimenticati, il primo cittadino sui social, siamo stati abbandonati solo per i tagli di bilancio. Tortoreto, l'ex sindaco Ricchi, ecco il complotto alba adriatica, emergenza mareggiate, patto tra comuni. Ed ora la pagina sportiva da Abruzzo Sport in apertura il titolo. Pescara non è ancora finita, Zampano, finora abbiamo fatto male, però non è detta. Siamo ultimi ma la matematica ancora non ci condanna. Speriamo di risollevarci assieme a giocatori d'esperienza come Montari e Gilardino. Daremo il massimo fino alla fine. Vediamo ancora l'avversario, Pioli. L'Inter non snobberà la partita. Nel taglio basso la Lega Pro, Teramo, salta perna, arriva il difensore Camilleri, il 24enne proviene dalla Paganese, la firma attesa nelle prossime ore, Orlando torna al Pescara. E poi la Serie D, Morgia, l'Aquila difficile tenere alta la concentrazione e ancora il ricordo, il calcio si ferma per Piero Di Pietro. Serie D in centro pagina San Nicolò, adesso le feste sono finite, il DS a muso duro ha detto non ci sono alibi per il KO a fermo, reazione immediata con il Monticelli. Resettare subito la debacle. Vediamo ancora il basket a due, il Smith, re dei bomber, tutto grazie a Roseto, il capocannoniere di tutta la categoria con una media 24,8 punti. Calcio le al squadra rapporto, due ore da patron Bartolini e poi ancora il Serie D, scusate, Pineto sugli scudi Mazzocchetti, Campobasso salta Mister Novelli. Rugby infine domenica via ai recuperi per l'Aquila e Gran Sasso. E con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna puntuale domani alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.